Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. In A11 coda tratti per traffico intenso presso Pisa Nord in direzione Firenze, tra Alto Passo e Capannori segnalato traffico a rilento in direzione Pisa, in A1 in direzione Bologna tra Calenzano e il B1 variante e rallentamenti dovuti al traffico intenso. Per consentire lavori di pavimentazione dalle 22 di martedì 11 alle 6 di mercoledì 12 luglio sarà chiusa la stazione di Arezzo in A1 in entrata verso Bologna, in alternativa si consiglia di entrare a Valdarno. In Fipilita, Montedera Est, la diramazione per Pisa in direzione Livorno, code a tratti per traffico intenso. Per lavori il 10 luglio in orario 9.18 sarà chiusa la rampa di uscita Livorno-Aurelia in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!